Tanti dei nostri genitori sono impegnati a far venire qui i ragazzi a giocare, a stare insieme senza nessuna iscrizione, nessun obbligo, nessuna retta, niente. Lasciare liberi come facciamo anche con il catechismo, con le attività dei ragazzi. La cosa importante che io sto sottolineando è che i ragazzi stiano insieme, più insieme possibile, perché corrono il rischio di essere degli isolati. Dico sempre che la generazione futura sarà una generazione di eremiti, perché sono troppo soli questi ragazzi. Quindi è bello vederli, il primo giorno sono già tanti e aumenteranno sempre di giorno in giorno, anche perché tanti di loro hanno capito una cosa importante, cioè l'evangelizzazione. Si evangelizza passando la parola. Ragazzi, ho visto già stamattina che due o tre ragazzi hanno portato altri cinque o sei ragazzi che finora non frequentavano neppure la parrocchia. Ma il passaparola, ecco, dire venite, come dice Gesù a Giovanni, ecco, venite e vedrete. Questa è la nostra caratteristica, senza poi tante cose, tante, diciamo, organizzazioni, niente. Molta semplicità, ecco, dando loro spazio, serenità, gioco, amicizia. Hai visto che ci sono sette, otto già animatori, già tutti pronti, è un anno che si preparano per questo compito e lo svolgeranno certamente molto bene.